Ok, allora farmi un po' vedere se va bene Sì, 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 perfetto Direi assolutamente sì Direi assolutamente sì Un po' qua Olè Qua ci siamo Qua è tutto pronto Eccoci qua Su Facebook ci siamo già Ciao, buonasera Buonasera ragazzi Eccoci, ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene, siamo carichi e in forma? Su Instagram ancora non c'è nessuno Sono tutti su Facebook Non vedo i commenti su Facebook Dannazione, forse non state neanche commentando Mannaggia voi Ci siamo con l'audio, vedete bene? Audio, video, tutto ok? Sì, mi sembra di sì Mi sembra di sì, 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 sì Vi vedo, vi vedo, vi vedo Ok, ragazzi, allora buonasera Buonasera, a breve il gag Si parte alla grande, eccoci qua Allora, benissimo ragazzi Stasera grandi appuntamenti Ore 18.30, quindi tra 4 minuti Lezione di gag Ore 19.15 30 minuti di flow Ok? Stacchiamo la diretta su Instagram La facciamo ripartire Invece su Facebook la tengo E andiamo in continuità Ok? Perfetto, buono E poi soprattutto stasera Ore 21 Per chi si è prenotato Call conference Videoconferenza Chiamatela come volete Call Semplicemente Ormai ho imparato questo termine Durante il lockdown E me la tiro Faccio il figo in un modo incredibile Call su Zoom Alle ore 21 Sperando di avervi Di aver fatto tutto bene Perché io su Zoom Ho sempre fatto casini Storicamente Però mi sembra Di aver fatto tutto bene Perché la call Delle 21 Perché Alle 21 Vi raccontiamo Che cosa vogliamo fare A partire da settembre Ok? Tanti di voi ce l'hanno chiesto Tanti di voi ci avete chiesto Ci avete chiesto un po' tutti Quali sono le Le nostre intenzioni Quali sono appunto Le nostre Le nostre volontà E noi Questa sera alle 21 Ve le sveliamo Quindi vi racconteremo Che cosa abbiamo in mente Ok? Tutti quelli che hanno fatto richiesta Hanno ricevuto L'ID E la password Per poter entrare Alla call di questa sera Per tutti quelli Che invece non possono Per impegni lavorativi Personali Ci mancherebbe altro Assolutamente Non preoccupatevi Non preoccupatevi assolutamente Anche perché È soltanto per iniziare A introdurre Daremo le info In realtà Quindi introdurre una sega Scusate il termine In realtà diciamo Proprio le cose come stanno Però Non è un problema Poi ve lo faremo sapere Anche scritto Quindi non c'è assolutamente problema Vi invieremo una mail Senza alcun tipo di problema Per chi fosse Interessato Ancora a partecipare Alle 21 Una cosa veloce In 30 minuti Ce la caviamo Abbiamo ancora 8 posti disponibili Ok Quindi se volete Ci sono 8 posti disponibili Potete fare richiesta E noi Staccato alla diretta Vi mandiamo Evidentemente l'id Mi raccomando Per tutti quelli Che Decidono di partecipare Stasera Alla conferenza Puntualità ragazzi Ok Perché abbiamo pochissimo tempo E bisogna cercare Di fare le cose Velocemente Quindi alle 21 Direttamente collegati Pronti Già mangiati Già Pigiamati Come volete essere Ok Pronti a seguirci Va bene E ripeto Per tutti quelli Che non ci fossero Ci iscrivete in privato Se volete l'accesso Alla call Ve lo mandiamo Se invece Non riuscite stasera Vi manderemo poi Le informazioni Che l'importante È che ci contattate Per farci sapere Siamo interessati A quello che farete a settembre Ok Bene Stasera cosa abbiamo Quindi abbiamo Il nostro gag Il nostro gamba Addominali glutei E a seguire Alle 19.15 30 minuti del flow Ok Ripeto Per chi non ci fosse Dall'inizio Vado in continuità Su facebook Non stacco la diretta La stacco per instagram Velocemente E poi la faccio ripartire Perché su instagram La diretta Dura solamente un'ora Ok Fatemi vedere Se va a tuo posto La musica ci siamo Ok Su zoom Roby Non su skype Zoom Zoom Io sono un discreto Zoomista Disca è pessimo In realtà Paola non c'è problema Poi ti contattiamo In privato Ok Perfetto ragazzi Sì sì Caldino Caldino stasera Ma è normale Noi andiamo avanti Nonostante il caldo Insomma Buono Non è un allenamento Stasera alle 21 Cioè Che nessuno abbia pensato Che è un allenamento Perché l'abbiamo specificato Insomma È soltanto raccontarvi Quello che faremo Ok ragazzi 18 e 29 Faccio partire la musica E partiamo Buona lezione Buon allenamento Dai Vai Musica storica del gang Lezione un po' particolare Un po' diversa Vediamo cosa viene fuori Buon divertimento Wow Entusiasmo Ci siamo Ragazzi Mi raccomando Buon divertimento Ci divertiamo insieme Ok Pronti Si parte Con la step touch Vai Ben deciso E via Buono Comincia subito A prendere il ritmo Iniziamo il riscaldamento Anche se secondo me Non ce n'è assolutamente bisogno Perché fa caldo Vai Buono Prendi e tieni il tap Let's go Yes Vai 8 7 6 5 4 3 2 Buono Andiamo dietro con la leg curl Go Yes Leggero Chiudi bene Scalda anche il femorale Che ci servirà molto Traziona le braccia Come in un remattore Vai Buono 8 7 6 5 4 3 2 Let's go Scalda C'è via Vai Prendilo E ritmato bene Buono Mettiamoci in condizioni Con gambe e glutei Di lavorare 8 7 6 5 4 3 2 Buono Sul posto ragazzi Streccia la coscia destra Allunga Mettiamolo bene In allungamento Che ci servirà Buono Cambia sinistra Tira Ottimo Molto bene Mi attivo Scorsetta leggera sul posto Fai salire il tallone Metti movimento Con le braccia Vai Leggero 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 Aziona bene Le braccia Vai tranquillo Spostati lateralmente Destra Sinistra Yes Dai ragazzi C'è caldo Ma non ci interessa niente Noi spacchiamo Uh Ligure è caldissimo Non posso immaginare la pianura padana Che emozioni regalerà a livello di caldo In questo momento O anche il sud Che anche il sud Fa parecchio caldo 8 7 6 5 4 3 Sul posto Vai veloce Spingi Buono Dai 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 Attiva subito dietro Quei femorali a bestia Buono 8 7 6 5 4 3 2 Step touch Buono Vai Ho proposto a Laila di fare il cambio Lei fa il guard E io comincio a fare lo stretch and form Che me la cavo anche discretamente Prendi il ritmo Dai Buono Più aggressivo questo step touch Let's go Vai Buono Ancora 3 8 7 6 5 4 3 2 Sul posto Corri ancora Go Spostati in avanti vai Let's go Dai 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 Buono Avanti E torna dietro Buono Ancora 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 Avanti E non mollare Buono Ancora Spostati in avanti Facciamo bene questa parte delle andature Mi raccomando Fatta bene dinamica Rimani sul posto Dai un'accelerata Cambia il ritmo Spinge vai Vamos Dai 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 Non mollare ancora 8 7 6 5 4 3 2 E start Let's go Andiamo andiamo Ritmo Mettici entusiasmo Vai 8 8 7 6 5 4 3 Buono ragazzi Allarga le gambe Scendi lentamente in squat Torna su Iniziamo ad attivare gli arti inferiori Buono Buono Ottimo Tieni il controllo Vai Facile 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 Buono Stringi il gluteo Vai Yes Stringilo bene Questo gluteo Non mollare Buono Qualche seconda ancora Lavora sempre sulla profondità Vai lento Perché mi interessa solo La mobilità Stringi il gluteo E non mollare 8 7 6 5 4 3 2 Step up Let's go Vai Buono Dai con me Andiamo Non facciamoci intimorire o intimidire dal caldo Forza Ragazzi Attenzione a questo 2 squat 1 2 Ruoto l'anca Hop Hop 2 squat 1 2 Ruoto l'anca Apro Apro 2 squat 1 2 Buono Ruoto Ruoto E 1 2 Ancora Ruoto Ruoto Ancora E 1 2 Ancora Ruoto 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 Ancora una volta 1 6 2 6 Ruoto Ruoto E ok Startello Ributto su un attimo il cardio Ok Ci attiviamo con gli altri inferiori E parte l'attivazione cardio per la vera Ok Mi raccomando Pronti con il jumping jack Si va Insieme a me Let's go Via Vai Buono Ritmo e vai 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 Buono 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 Metti l'intensità e non mollare Vai così Vai così Vai così e non mollare Buono Uh Vai Yes 8 7 6 5 4 3 2 1 Perfetto Ragazzi Affondi in avanti Con controllo Dai così eh Sempre lento in mobilità Riscaldamento più o meno è sempre il solito Non cambia molto Vai Buono È un gag oggi Misto cardio tecnico Ok C'è da divertirsi Vedrete cosa intendo Scendi sempre bene col ginocchio dietro Ricordati sempre la spinta in verticale Quando torni su Il busto rimane dritto Non mollare Ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 Allarga le gambe Mobilizza la colonna Taccia terra e su Yes Andiamo a mobilizzare un attimo dietro la colonna Ci servirà averla molto mobile Uh Anche per il flow delle 7 e un quarto Uh Ma è ancora buono Apri sempre bene le spalle Yes 8 7 6 5 4 3 2 E ok Sul posto Calciata leggera Ultimo giro di riscaldamento ragazzi Leggera la calciata Spostati laterale Destra E poi sinistra Destra E poi sinistra Sempre leggero e agile Chiuditi bene portando il tallone al gluteo Vai 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 Zombie Ancora 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 8 7 6 5 4 3 Sul posto Accelerata forte Dai 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 Spingi 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 ancora ancora per 8 7 6 5 4 3 E ok ragazzi attenzione e squat Salgo Ancora Squat E ok Ruoto Ruoto E ancora Squat Squat Ruoto E ruoto Ancora Buono Ruoto Ruoto Squat Doppio Yes Buono Avanti ancora Manteniamo la rotazione E' solo riscaldamento Ovviamente stiamo già sudando Ci sta Buono Ruota ancora Ruota ancora E squat Yes Ancora Ruota Ruota E ok Stantello Andiamo di jumping jack Siete pronti? Mi raccomando ci siamo con la prima di riscaldamento Pronti? Go Vai Perfetto Perfetto Buono Vai 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 Ancora Ancora Buono Vai così Prendite nel ritmo Vai viaggiare Vai viaggiare 8 7 6 5 4 3 2 Ok Front lunge Controllato Ricordati di non andare veloce Ricordati di ritornare bene su Sulla spinta in verticale Buono Buono Ancora così Yes 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 Vai 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 ancora Buono Uh Non molliamo che va bene Vai così Oh Tremendo 8 7 6 5 4 3 2 Buono Ragazzi Sandellino Pronti? Calciato dietro Vai L'ultimo L'ultimo Dai 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 Fammi andare queste gambe Buono 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 8 7 6 5 4 3 2 Ok Uh Come va? Ci siamo? Grandi Un goccio d'acqua E parte il lavoro Il riscaldamento è stato eseguito Wow Ragazzi vi servirà l'asciugamano Se non l'avete preso procuratelo Ci sarà un esercizio Uh Ok Pronti? Asciugamano per voi Ragazzi Attenzione Andiamo a fare un esercizio Come primo esercizio appunto Un over head squat Quindi con le braccia verso l'alto Dove dovremo portare L'asciugamano su E cercare di portarlo In trazione Ok? Attivare dietro i dorsali Va bene? Cercare di avere Le scapole Bene verso l'alto 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 E la volontà Di aprire più che posso Il mio asciugamano All'esterno Ok ragazzi? Si parte Parte il workout Buona fortuna Vai su Trazione Over head squat Let's go Via Cerca di avere bene in trazione Il tuo asciugamano In modo da attivare anche i dorsali Importanti nella parte posturale Ti serviranno tantissimo Per tenere il giusto arco Sulla colonna vertebrale Scendi quanto puoi con le gambe Concentrati sulle braccia Stringi il gluteo quando sei su E non mollare Wow Let's go Wow Vienmelo a non mollare Vienmelo a non mollare Ancora ancora Buono Go Wow Wow Fantastico Pochi secondi Ancora Ci sei Stop Butta la via Scatta Prendilo per il recupero Esercizio numero due Lavoriamo su un jumping jack Senza l'attivazione delle braccia Ok? Lavoro soltanto sull'attivazione Negli arti inferiori Per lavorare molto Sulla muscolatura Lavoro dell'interno coscia E la parte cardio Otto Uh Ah Buono Quattro Tre Due Uno Mani sulle anche Let's go Vai Spingeli là Oh Vai 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 Andiamo Andiamo Buono 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 Menti ciri Vai Ale Ale Andiamo 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 Spinge vai Buono 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 Stiamo Non mollare Vai Buono Buono Lavora 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 Attiva bene Quest'interno coscia Forte la chiusura Non mollare Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Step Touch Uh Ciao Cantino Tassera durante la call Trenta minuti di challenge Così a caso A creare entusiasmo Mentre io spiego I programmi Voi andate di challenge O stare Così a caso Otto Sette Sei Cinque Voglio ragazzi A questo punto Un back lungi indietro Ok Fatto bene Pronti Let's go Uh Yes E spingi forte Vai Buono Vai 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 Non mollare Che va bene Buono 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 Vai 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 Non mollare Tieni il back lungo Non mollarlo Buono Wow Wow Ancora Yes Flexi Tieni la spinta Non mollare Vai ancora Buono Wow Buono Yes 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 Sono gli ultimi Buono E stop Step touch Uh Tanta roba Tre esercizi andati Quarto esercizio È un quasi barbis Un front squat Da questa posizione Posizione di plank Gambe tese dietro Jump avanti Mi giro su Stendo Torno Su Ok Questo è cattivo Va bene È cardiomuscolare Con attivazione del corpo Scendi giù Pronti Andiamo in plank Si va Let's go Spam Spissa bene le scapole dietro Wow Up Up Su Buono Su Vai Vai Su Buono Ancora Fissa sempre bene le tue scapole dietro Uh Uh Buono Sali E stop touch Oddio Questo era cattivo Come ragazzi Si va a terra Si comincia a lavorare sui nostri glutei in quadrupedia Buono 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 Da lì Recuperi il tuo asciugamano Atterra sui gomiti La gamba destra Vola verso il cielo in flex Pronti? Let's go Sono tanti Sono tanti eh Sono tanti Sono veramente tanti Per tante cose è una posizione di riposo Per altre localizzi il lavoro sul gluteo E' micidiale Portalo bello in alto Vai Uh Spingilo a non mollare Spingilo a non mollare Buono E ok Buono Da lì ragazzi Cambiamo gamba Sinistra alta Let's go Su Tremendo Tremendissimo Brucia tutto in un modo impressionante E' una roba tremenda Glutei veramente a pezzi Vai Tiemeli alti Ricordati di tenere il piede a martello E devi avere l'idea di andare a martellare il soffitto Ti alzi delle martellate forti Ancora Vai così Non me lo perdere Non me lo perdere Vai 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 Ancora per Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E ok Torna sulla gamba destra Da quella posizione Sei in mezzo plank Ok La sinistra è sollevata da terra Lavora la destra Alta e lenta Ok Let's go Non serve Non serve che vai veloce E stop Buono Scarica un attimo Hai capito il giochino? L'altra gamba Piede piantato a terra Ginocchio sollevato Lavora una gamba soltanto E lavora lentamente Destra a terra Lavora a sinistra Go Su Non mollare Buono E ok Scarica un attimo Andiamo in piedi Asciugati velocemente E prendi lo stare a touch Come è ragazzi? Attenzione Adesso diventa interessante Lavoriamo Sul back lunge Con la fase balance Ok Come nel flow Destra che va dietro Su Tengo Dietro Su Tengo Dietro Su Tengo Dietro Su Tengo Dietro Su Ancora Vai Su Ancora Yes Su Ancora Yes Rimani su Tieni il controllo Fermali Mantieni Attenzione Tienilo Stiamo attivando Stiamo attivando anche molto il core Stiamo lavorando sul medio gluteo Pronti ragazzi? Da quella posizione Gamba che scende La sinistra avanti si piega Ripita Go Buttameli su Buttameli su Buttameli su Buttameli su Vai 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 Buttameli su Vuol dire spingi più che puoi Dacci dentro Vai 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 Su sta gamba Buono Dai 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 Spingi Questa è la fase che allena Forza 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 Dai 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 Ancora Ancora Spingi non mollare Tieni la gamba davanti In caricamento Forza Forza Non mollare ancora 8 7 6 5 4 3 2 E start Buono Tutto questo lavoro È da fare sull'altra gamba Ok? Mi raccomando Diamoci dentro Ok ragazzi? Scende da sinistra Da crunch E sale in equilibrio Tengo Scendo Tengo Scendo Tengo Scendo Tengo Ancora Scendo Tengo Ancora Scendo Tengo Ancora Scendo Tengo Ancora Scendo Tengo L'ultima volta Rimani su e mantieni Tieni questa fase di up Lavora sulla progettiva Attiva Attiva il core Non mollare Forza 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 Stai lì Piega la gamba avanti Porta la sinistra dietro Via Quei ripeter Go Dai 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 Spingi e butta su Dai Dai Ritmo vai Ritmo vai Buono 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 Vai 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 Spingi Butta su 3 2 Ok Un goccio d'acqua Ma pronti a ripartire Che spettacolo Prendi lo step touch Recuperalo con me Vai Go Ok Come ragazzi ci siamo? Non sta andando male Direi che ci siamo Ok Parte il secondo giro del circuito Bene Mi raccomando Devi ripartire Dall'overed squat Duro le braccia Scappano dalle fissate Dai eh Tenere duro Che ci siamo Dai che stasera c'è la call Pronti? Su bene Manda in tensione Buono E vai Squat o bene Via Buono Yes Vai così Vai che è solo un altro giro di questo circuito Non me lo mollare Possiamo farlo bene Vai Tieni bene in trazione l'asciugamano Per attivare i dorsali Vai così Buono Yes Vai che va bene Ancora Ancora 8 7 6 5 4 3 2 E ok Via Step touch Che calore Ragazzi Il secondo È la parte cardio Mani sude anche E lavoro su apertura e chiusura Ok Degli atti inferiori Mi raccomando Tutti pronti? Let's go Via Vai Buono 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 Molto anni 80 Se non 70 Vai Uh Uh Vai Vai Dai 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 Buono 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 Ritmo è via Vai così Ottimo Vai 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 Buono Uh Uh Vai 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 Tienmelo Tienmelo Non mollare Non mollare niente Vai così Ritmo e via Buono 8 7 6 5 4 3 2 Step touch Uh Tanta roba Com'è? Ragazzi Terzo esercizio Back Luce Indietro Esercizio di controllo Ok Via con me Let's go Wow Yes Yes Buono Buono Tieni il back E non me lo mollare Scendi bene E lavora sul controllo Buono Insistimos così Step dietro E spinta su Wow Non mollare Vai 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 Buono 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 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 Step touch Buono Uh Com'è? Ci siamo? Sì Ok Mamma mia Numero 3 oggi E dopo c'è la quarta 4 lezioni Tanta roba Si va giù ragazzi Frog squat jump Ok Tap plank Stendo le gambe avanti Girate Avrò il pezzo Pronti? Let's go Via Pam Riprovati in mezzo squat con le gambe Vai così Come ragazzi? Si parte Sollevamento della gamba destra Bello alto Vai con il gluttio Let's go Su Porta l'alta E vai Buono Tieni altezza E non mollare Vai 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 Ancora Ancora Buono Wow Parti subito a sinistra Piedi a martello E vola verso l'alto Let's go Uh Uh Non mollare Vai 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 Porta l'alta sta gamba Non mollare Spingi sempre su verticale Non mollare 8 7 6 5 4 3 2 E ok Uh Buono Passaggio successivo Dal mezzo plank Dal mezzo plank Solleverò la gamba destra E la porterò su lentamente in flex Tieni il controllo Non serve che vai velocemente Pronti? Mezzo plank Let's go Salla destra Vai così Non mollare Non mollare 8 7 6 5 4 3 2 Scarica Buono Si fa da sinistra Ok Vai in mezzo plank Pronti in posizione Salla a sinistra Let's go Non mollare Non mollare Dai 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 Ancora Buono Stop Andiamo in piedi Uh Ragazzi Prima dell'ultima parte Step touch Come Let's go Buono Com'è Sfruttate pure C'è l'ultima parte Back lunge Up Equilibrio E ripete Prima destra Vai Go Dietro Sali Tieni Dietro Su Vai Sali Vai Su Ancora Buono Tieni sempre Quell'attimo di controllo 4 3 2 Mantieni Stai lì 8 7 6 5 5 4 3 Piega la gamba Ripeter Go Coppia la musica Vai 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 Buono 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 Spingi 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 Portala su Portala su Dai 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 Metti il ritmo Metti il ritmo Vai 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 Spingi 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 Ancora pochi secondi Buono 8 7 6 5 4 3 2 Step touch Fantastico Ragazzi Calore Gamba sinistra E l'abbiamo chiusa Ci sono solo gli addominali Pronti? Vai Back lunge E up Ancora Lento così Dai che tra due ore c'è la zoomata Non molliamo 4 3 2 Mantieni 8 7 6 5 4 3 Portala dietro Go Bam Spingi 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 Non mollare Butta la sua vai Dai 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 Spingi 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 Non mollare Non mollare 8 7 6 5 4 3 2 E stop Pausa lunga Wow Fantastico 32 minuti Non stop Ci abbiamo Vai a dominare adesso Com'è ragazzi Ci siamo Sfruttiamo la pausa Per ricordare a tutti La call conference Alle ore 21 Oggi Quindi tra due ore Su zoom Ok Dove vi raccontiamo i nostri piani per settembre Lo dico per chi si fosse collegato Soltanto adesso Ok Mi raccomando abbiamo già inviato L'ID e la password per accedere Ok Niente Collegatevi insomma Se qualcuno volesse Non avesse visto i vari annunci Che abbiamo messo più e più volte Su facebook e su instagram E l'avesse scoperto soltanto adesso Facendo la lezione Non è un problema Potete scriverci adesso Abbiamo ancora 8 posti disponibili Per la call conference Qualunque cosa Non vi preoccupate Tanto da domani Faremo comunque partire E-mail Dove vi racconteremo Ovviamente su facebook e su instagram Quello che è il nostro programma Ok Bene Ragazzi Si va a terra Si fanno addominali Dagli è tutta Si evapora Si concordo 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 Assolutamente E pensa che dopo c'è anche il flow Ragazzi andiamo a terra Addominali Buono Ok Andiamo giù Partiamo facili Crunch Pronti? Let's go Via Vai Ricordati sempre di svuotare aria Quando sali Ok Tieni le mani dietro la testa Comiti aperti o chiusi Decidi tu Per me è indifferente Vai Buono E ok Incrocia la gamba sinistra Apri l'anca Obliquo Gobito destro Verso il ginocchio sinistro Contrazione piccola Let's go Dai 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 Ok Ok Face 8 7 6 5 4 3 2 Cambia gamba Apri l'anca Let's go Via Vai 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 8 7 6 5 4 3 2 E ok Buono ragazzi Andiamo a mettere le mani a fare un pochettino di spessore Tra il gluteo e il pavimento Tra l'osso sacco e il pavimento E facciamo i leg raises Quindi solleviamo le gambe tenendo le tese Se non riesci facciamo reverse crunch Quindi le gambe le solleverai piegate Pronti? Giù le mani Mettila sotto il gluteo Testa a terra Solleva su Via Se non riesci Lo fai a gambe piegate Non c'è assolutamente problema Vai che va bene Vai Buonissimo 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 Non mollare Non mollare Che va bene Continua Continua 4 3 2 E ok Sonneva le gambe Raccogli la tavolino Di nuovo crunch dritti Ma con le gambe su Let's go Non mollare 8 7 6 5 4 3 2 E ok Pancia sotto Wow Che sarebbe da non fare Visto che dopo C'è il flow Vai sui gomiti Tieni plank Apertura Apertura A T Apri il gomito e ruota Leggermente in senso laterale Con controllo Wow Ancora Ancora Mountain climber Ok Ginocchia che vengono avanti Alternate E lo abbiamo portato a casa Ci prepariamo allo stretching 4 3 2 Let's go Vai Cosa mi dicono No Gang Oggi 18 30 E 19 15 Flo Pronti Let's go Via Stigilo Questo mountain climber Dai 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 Non mollare Non mollare 8 7 6 5 4 3 2 1 Stop Buono raga Portate a casa Possiamo fare stretching Mamma mia Quarta roba Ottimo Ci allunghiamo L'abbiamo portato a casa Il gag Adesso Recuperiamo E tra poco Andiamo col flow Giustamente Diamo lo stretching Per chi Avesse voluto Soltanto fare La lezione di gag Allungati bene Wow Caldo ragazzi Lo so Caldo anch'io Allungarsi bene Buono Mamma mia Che gag Gag tecnico E cardio In certi punti Molto bene Allungati bene Buono Sali su Perfetto Mi lasci soltanto Una gamba avanti L'altra la apri All'esterno E vai ad allungarti Stretching Bello profondo Let's go Vai L'avevate visto Che era Il mese delle combo Vero Quindi sapete Che il gag Era a 18.30 E alle 19.15 Facciamo il flow Lo sapete Sì Ditemi che lo sapevate Forse abbiamo Forse c'è un errore Sulla locandina Fissata in alto Forse è rimasta Quella vecchia Forse Se ne è in tal caso Ti diamo scusa Molto bene Cambia E vai Buono Allunga Vai Comunque non c'è problema Rimane registrata Si può fare anche dopo Mantieni bene L'allungamento Stira sempre bene Wow Perfetto Molto molto bene Ok Mauro Grazie Mettiamo subito a posto Buono Aduttore Allunga e vai L'abbiamo condivisa Domenica sera Ma probabilmente Non l'abbiamo fissata in alto Ci sta assolutamente Oggi abbiamo messo Comunque la combinata Ricette 30 Gag 19.15 Flock Chiediamo scusa Se è rimasta fissata Con la vecchia Buono Ok Allunga le gambe avanti E da lì Vai prenderti le punte dei piedi Vai Stretch Vai prenderti bene Le punte dei piedi Wow Buono Ok Sali in piedi Wow Ok Buono Giù e via Scarica E stretch Aggiunga Buono Sali Ok Prendi la punta del piede destro Stira il quadricipite Buono Molto bene Vai a sinistra Porta su Allunga Yes Muy bien Andiamo a prendere aria Inspiriamo Buono Ancora Inspiriamo su Perfetto L'ultima volta Inspira Vai su E scendi a scaricare Il mio stretching Vai via Wow Porta giù Scarica bene a terra E ok Buono Salgo su lentamente E stop Bene Grazie ragazzi Il gag è andato Partiamo col flow Wow Allora Facciamo una cosa Fatta bene Visto che c'è stato un disguido E che probabilmente abbiamo sbagliato anche noi È rimasta sulla locandina vecchia E schiediamo scusa per questo Però l'avevamo detto È rimasta sulla locandina vecchia Purtroppo in alto Fissata Mi dispiace Abbiamo condiviso quella domenica Quella nuova domenica Non l'abbiamo fissata su in alto Mi dispiace Chiediamo scusa per questo Facciamo una cosa Così diamo modo a tutti Di fare comunque la reazione Anche in differita Stacco le dirette Sia su Instagram Che su Facebook Tra esattamente un minuto Mi ricollego Sia su Instagram Che su Facebook Per il flow Ok Eso es Vamos A tra poco Ciao